Roma, 29 Gen, Eminem si esibirà in Italia il 7 luglio all'Area Expo di Milano, la data unica rappresenta il primo live in assoluto per il Viterapper nel nostro paese. Infatti è stato ospite, tra le polemiche, del Festival di Sanremo 2001 condotto da Raffaella Carrae si è poi esibito agli MTV European Music Awards nel 2004 a Roma ma quello di luglio organizzato da Live Nation sarà il suo primo concerto live.